Il mercato del Pescara nella giornata di domani è atteso l'arrivo a Palena del difensore argentino, classe 97 Julian Iglianes, eccolo qui lo vedete in foto, ultimo anno e mezzo nell'Avellino, primi sei mesi della scorsa stagione ha giocato invece nel Chievo una presenza in Coppa Italia contro il Catanzaro, poi a gennaio il ritorno proprio ad Avellino complessivamente col club Irpino, 43 presenze, marcatore abile nel gioco aereo, Iglianes arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina nell'operazione, non è stato inserito il promettente senegalese SEC che dunque resterà in forza alla primavera biancazzurra, salgono così a quattro le operazioni in entrata, lo svincolato dei marchi, attaccante ex Virtus Verona, Cittadella Imolese, pompetti dall'Inter, appunto l'argentino Iglianes, il terzino Davide Zappella, classe 1998, ufficializzato proprio oggi dal Pescara, in prestito dall'Empoli con obbligo di riscatto in caso di promozione in B del Delfino. Esperienze precedenti in C nel Cuneo, nell'Arezzo, nel Piacenza, proprio con Matteassi nella stagione 2019-2020 e nel Cesena ultimi sei mesi della scorsa stagione. In B una presenza nell'Empoli, campionato 2017-2018, allenatore Vincenzo Vivarini. In uscita Scognamiglio Avellino ai dettagli, Masciangelo al Benevento a titolo definitivo, manca solo l'annuncio, Crecco, notizia di ieri ufficiale al Vicenza in prestito con opzione di riscatto, andrà via anche in zita come laterale sinistro. Si parlava di Sarsi-Puttini, classe 1996 dell'Ascoli, ex Bari, in realtà non è stato mai trattato. In entrata sempre calda la pista d'Ursi, c'è una piccola differenza da colmare tra richiesta di ingaggio e offerta. Poi bisognerà trovare la quadra sulle modalità di trasferimento col Napoli. Plausibile il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Pescara in Serie B. Dursi è un fedelissimo di Gaetano Auteri, ha realizzato in due stagioni col tecnico siciliano a Bari. Lo scorso anno nel 2018-2019 nel Catanzaro ben 26 gol, 10 nel Bari, 16 nel Catanzaro. A Teramo invece è calma piatta, lunedì 26 luglio, ricordiamo, è fissato l'inizio della preparazione, l'inizio del ritiro, lo aveva già annunciato i giorni scorsi proprio il presidente Iechini. Ad oggi soltanto 15 giocatori sotto contratto, trattative in corso per l'ingresso di soci nel club da parte del presidente Iechini che però non ha ancora ufficializzato né il direttore sportivo né tantomeno l'allenatore. Insomma Teramo in ritardo in questa fase, intanto lo svincolato portiere Lewandowski si è accasato, si è accordato con il Gubbio in Serie C. Piacentini che sotto contratto uno dei gioielli piace alla Cremonese, Diachite alla Ternana ma in questo momento si registra una fase di stallo nella trattativa.